buongiorno ragazze buongiorno oggi mi sono svegliata con la voglia di pulire il mondo voglio pulire il mondo allora per cominciare ho fatto questi vetri questi qua tanto sono tranquilla che il mio meteorologo di fiducia mi ha detto che non piove per ora che le giornate sono belle buongiorno dalla mia bimba quindi sono tranquilla e ho fatto i vetri della cameretta e poi ho fatto i vetri questi qua dalla parte del salotto dalla parte del salotto ecco qua aspettate ve li faccio vedere si vede che sono puliti allora lasciamo aperto facciamo entrare sempre l'aria pulita fresca del mattino molto fresca allora ragazze oggi vi ripeto mi sono alzata con la voglia di pulire il mondo quindi e mi sto facendo i vetri poi mi sono preparata questi tre contenitori vasi porta bonbon di cristallo perché come vedete c'è la polvere quindi li voglio lavare proprio con acqua saponata detersivo e li voglio lavare poi che ho fatto sto facendo una lavatrice e ho sto lavando una fodera della sedia ikea anche perché ieri si è schizzata con il nero delle seppie ieri a pranzo abbiamo fatto appunto questa pasta col nero delle seppie e c'era uno schizzo e poi vorrei se mi riesce fare tutta una bella pulizia i pavimenti come se fosse sabato perché forse sabato non so se di mattina devo uscire vediamo comunque in ogni caso in ogni caso appunto ho voglia di pulire oggi in palestra non ci vado faccio una pausa e così mi voglio pulire tutta casa intanto ho fatto appunto questi due vetri per portarmi avanti perché poi altrimenti magari dopo che faccio la cucina e altre cose mi sento stanca e non li faccio più ho detto aspetta che me li faccio prima così per ora sono diciamo più vitale poi ragazze vi volevo parlare solo un paio di giorni solo che l'ho dimenticato se avete visto questa questo sceneggiato questa fiction sceneggiato è una parola che si usava prima se avete visto appunto questa fiction che si chiama la storia con jasmine trinca protagonista ragazze è stato di una bellezza davvero che non so descrivere è stato bello commovente fatto bene jasmine trinca di una bravura pazzesca io un po questo questa fiction la la paragono un po al film di della cortellesi che sta avendo tutto questo successo che è ancora al cinema questo poteva essere appunto anziché fare mi pare otto puntate fare un film al cinema e secondo me sarebbe stato bellissimo di uguale bellezza a questo della cortellesi quindi se non l'avete visto sul replay ci sono le puntate e io vi consiglio di andarla a vedere già l'ho consigliato ad alessia e vi consiglio appunto da darla a vedere perché davvero è spettacolare la storia gli attori sono bravissimi in primis appunto jasmine trinca che io adoro come attrice italiana e quindi appunto io volevo dire questo di seguire eventualmente se non l'avete visto questa fiction perché veramente merita merita tantissimo allora raga io vado a fare appunto la cucina e poi vediamo se posso continuare con i vetri ragazze voglio approfittare del fatto che il frigorifero è uscito un po di cose diciamo non era molto pieno e quindi approfittiamo per dare una bella pulita ragazze ma perché il frigorifero si sporca così velocemente io non lo so quindi lasciamolo per ora un pochino agire lasciamo agire il detersivo e nel frattempo con la pulizia del mondo siamo arrivati al piano cottura che è bello tosto sporco perché qui si cucina ragazze si cucina si cucina e quindi ci sono quelle famiglie io ogni tanto sento dire no ma noi non cuciniamo oppure no ma noi fritture non ne facciamo facciamo sempre cose bollite arrosto ma qui a casa mia si cucina si frigge soprattutto si cucina molto pesce sapete e quindi il piano cottura e tutta la cucina insomma bisogna assolutamente di cura a vi volevo fare vedere il prodotto con cui ho fatto i vetri questo qua l'ho preso da euro spin vi devo dire che mi piace è proprio lascia veramente i vetri molto molto brillanti ragazze spero di come dire darvi un'iniezione di ottimismo di voglia di pulire tra l'altro me lo dite spesso che grazie a me alcune volte non avete voglia di pulire invece poi vedete me e vi viene la voglia oppure come mi ha detto ieri un'amica che è tornata in palestra grazie a me appunto che faccio vedere sempre la mia palestra il mio allenamento soprattutto faccio vedere il tapirulano perché poi nelle altre attività diciamo non mi posso riprendere mentre col tapirulano riesco e quindi mi fa piacere se pulite vi faccio venire la voglia di pulire se vi faccio venire la voglia di andare in palestra o di truccarvi o di comprare make up diciamo sono cose che fanno molto piacere infondere e infondere gioia infondere ottimismo insomma mi fa piacere ok ragazzi allora il piano cottura è quasi finito e stacco perché mi serve pure l'altra mano e ora continuiamo vediamo o con il bagno oppure con le cosine di cristallo che voglio lavare come procedono le pulizie del mondo allora cucina fatta e ora ho messo spruzzato il detersivo su queste cose in cristallo che voglio lavare il frigorifero l'ho pulito vi faccio vedere frigorifero pulito tutto è buono ecco qua e ora faccio una pausa dalla cucina e mi vado a fare il bagno perché io ho bisogno pure un po di cambiare di variare delle pulizie è parecchio che sono in cucina e quindi oggi ora passiamo al bagno e poi ritorno in cucina a lavare quelle cose in cristallo la mia lavatrice sta finendo 26 minuti alla fine questo è il prodotto che utilizzo per pulire il bagno e oggi in cabina cabina doccia spruzzo questo perché l'anticalcare mi è finito quindi urge una visitina al Lidl per andarmi a comprare l'anticalcare a parte il fatto che domani domani è venerdì quindi domani ci sono i fiori e anche se l'ho preso lunedì e sono ancora perfetti devo dire la verità guardate che meraviglia questi tulipani si vedono pure da lontano guardate che sono belli e a maggior ragione visto che mi sono capitati così belli voglio tornare domani che è venerdì a comprare i fiori ok 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 che è successo? ragazze un piccolo intoppo praticamente mentre stavo pulendo il bagno è andata via l'acqua mio marito si è informato e ci sono dei manutentori perché c'era un piccolo problema da risolvere nell'autoclave quindi ci stanno lavorando e mi hanno detto che ci vorrà una mezz'oretta ora naturalmente non potendo utilizzare fare lavori che hanno bisogno dell'acqua sto facendo altre cose non è che ci possiamo fermare e quindi intanto mi sono spazzata tutta la zona giorno e mi sono entrata un po' di roba che già era asciutta e ora mi sto spolverando la camera da letto era già in programma di appunto spolverarla ho tolto tutte cose e visto che per il momento non c'è acqua facciamo tutte quelle cose dove appunto non abbiamo bisogno dell'acqua e quindi questo qua sempre sto utilizzando e andiamo con lo spolverare tra l'altro il promotore di questa cosa dell'acqua è stato proprio mio marito perché si era accorto di una anomalia stamattina ha chiamato l'amministratore di condominio e tempestivamente sono venuti a vedere qual era il problema e lo stanno riparando ora siccome lo chef si sentiva un poco in colpa perché gli ho detto che mentre appunto facevo il bagno se ne è andata l'acqua che la lavatrice stava lavando e giustamente si è fermata siccome si sentiva in colpa appunto mi ha detto ma guarda che se io non avvisavo il danno peggiorava e poteva essere peggio sia come spesa che c'è amore sia come spesa che come tempi quindi praticamente mi ha detto mi ha sentito dire anzi meno male che me ne sono accorta e che ho avvisato l'amministratore di condominio e va bene allora qua già l'ho spruzzato ora vediamo un'altra cosa che mi sono ripromessa di fare visto che non ho acqua per il momento posso stirare che ho quattro cosine da stirare e al limite stiro perché assolutamente non ci possiamo fermare e vabbè quando ti viene voglia di pulire nel mondo e ti tolgono l'acqua ragazzi non vi ho parlato del tempo perché lo faccio ogni giorno allora freddo freddo aria freddina il mare che comincia a incresparsi si vede qualche cavallone però il sole splende fino a quando c'è un po' di sole che illumina le nostre giornate è bello siete d'accordo? ragazze è arrivata come vedete sta uscendo tutta la sorgine oh perfetto benissimo allora dobbiamo riaccendere la lavatrice perché avevo pure la lavatrice che stava lavando la mettiamo in risciacquì 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 ok allora devo dire che sono stati di parola perché avevano detto mezz'ora e in effetti mezz'ora è passata allora riprendiamo con lo sciacquare i sanitari ragazze voi lo sapete a me piace quando pulisco il bagno mi piace farlo così con abbondante acqua e rifatti faccio un macello a terra faccio scorrere tutta l'acqua però mi piace così proprio mi piace che ci deve essere molta acqua che scorrere anche qua sta uscendo un pochino d'acqua storica acqua colore ruggine sta uscendo e va bene comunque finirà finirà questa quest'acqua così ok mamma mia come ci sentiamo perse quando non abbiamo l'acqua un disastro una disgrazia ok ragazzi allora siccome ora devo fare la doccia stacco un attimo allora ragazze il bagno l'ho fatto per fortuna l'acqua è venuta non se n'è più andata la lavatrice sta finendo sono gli ultimi secondi della centrifuga e io nel frattempo ho fatto i vetri questi dal lato del appunto della cucina questi qua e poi ho lavato tutte quelle cose in cristallo e queste sono messe a scolare mentre questa che è insomma una forma più particolare non la voglio mettere a testa in giù questa l'ho asciugata mi sono spolverata il contromobile dove appunto ora metterò queste cose in cristallo guardate che bello pulito e niente diciamo che la voglia di pulire il mondo ce l'ho ancora però devo pure fare i conti con l'orologio è l'una meno un quarto a questo punto credo che per oggi mi faccia la camera da letto visto che è lo spolverata la finisco spazzo passo lo straccio e poi mi rimarrebbero gli ultimi vetri che sarebbero proprio quelli della camera da letto quindi adesso vediamo appunto spazzo la camera da letto e passo lo straccio guardate che viene bello pulito quando spolvero diventa più bello ok ragazze quindi continuo 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 e continuiamo con il mocio ragazze è arrivato lo chef ed è finita la festa comunque la camera da letto l'ho fatta poi mi faccio questi vetri e praticamente li ho fatti tutti per quanto riguarda invece il salotto poi tra domani e sabato finisco come al solito qui ancora sta asciugando bagno fatto asciutto pulito anzi asciutto veramente no però ragazzi vi voglio far vedere che bellissima frutta mi ha portato mio marito gli avevo chiesto le pere queste qua dei cane ma guardate che bontà guardate ditemi se non sembrano come si dice di martorana guardate che sono buone e poi mi ha portato le arance che io adoro soprattutto me le faccio all'insalata mi piacciono tantissimo guardate che bella guardate che bello questo vassoio sciabbi con questa frutta sapete che cosa sembra un quadro quei quadri che si chiamano natura morta dove c'è la frutta guardate che bello bellissimo allora poi che cosa vi voglio far vedere naturalmente lo chef se non compra il pesce muore e quindi ha comprato questo pesce che a me sembrava capone lui dice che è mi ha detto che è tonno va bene e poi invece mi ha portato una cosa buonissima che a me piace mi ha portato la ricotta fresca 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 buonissima ok ragazzi allora io a questo punto vi saluto oggi appunto avevo questa voglia di pulire il mondo un bel po' di cose sono riuscita a farle per le altre cose rimando a domani poi ero molto propensa oggi a farmi il colore però sto cambiando idea perché se me lo faccio oggi poi nel pomeriggio sono a casa quindi è un colore sprecato vediamo se me lo posso fare al limite domani sera perché sabato c'è una mezza idea di uscire abbiamo un piccolo impegno quindi può darsi che poi sabato appunto si esce ok ragazzi allora vi saluto spero di avervi fatto venire un pochino di voglia di pulire e come al solito ci vediamo tutte le mattine su questi schermi grazie grazie grazie